E vedi che trema, trema la vallata, mezzo paese alla luce, ma noi no, e intanto sopra la gola del Bayon si vedono questi lampi, è un temporale, no, è un cortocircuito, è un temporale, tremano le pareti della gola, è temporale, senti che tuoni, e intanto arriva il vento, è un temporale, è un temporale d'ottobre che cambia il tempo, succede, no, che arriva questo vento umido, schifoso, ma strano vento, che porta fuori una specie di acqua polverosa, bagnata, che macchia i vestiti, che cava il respiro, un'acqua strano, un vento poi che non è come il vento di di solito che arriva, fa un colpo, smette, ricomincia questo vento, come inizia non smette più, spinge e aumenta, spinge e aumenta, spinge e aumenta, è Cristo, non è vento questo, e neanche porta un odore, ma neanche avessero scoperchiato tombe, ma che cos'è, una cantina maledetta, è un pistone marcio che spinge avanti l'acqua, questo è qualcosa che fa vento, la diga, quattro minuti.